Veniamo alla narrazione sul Covid. Intanto vediamo un po' alcuni personaggi. Walter Ricciardi, che è stato il presidente dell'Istituto per le Sanità, costretto a dimettersi per conflitto di interessi. Ranieri Guerra, indagato per il mancato aggiornamento del piano, ex direttore dell'Ufficio Prevenzione del Ministro della Salute. Franco Locatelli, attuale presidente dell'Istituto per le Sanità. Peccato però che lui collabori con Amgen, Novartis, Bellicom Pharmaceutical, Milteni, Medac, Novi, GES Pharmaceutical, Takeda. Queste sono le case farmaceutiche con le quali collabora il presidente dell'Istituto per le Sanità. Conflitto di interessi, che cos'è? Oppure Emer Cook, il direttore esecutivo dell'EMA, viene dall'European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Cioè, ha lavorato per otto anni per Big Pharma, per la Novartis, per la AstraZeneca, per Pfizer e per Johnson & Johnson. E chi finanzia l'EMA? L'EMA riceve, essendo un organismo dell'EU, dell'Europa, ci si aspetterebbe che sia finanziata dall'Unione Europea. Solo il 14% lo riceve nell'Europea. Il restante 86% proviene da licenze per i farmaci versati dalla casa farmaceutica. Cioè, le case farmaceutiche pagano l'EMA che sarebbe il controllore. L'EMA autorizza i farmaci, è pagata da chi deve farli autorizzare. E per il famoso meccanismo delle porte gireboli, come vedete, gli amministratori delle case farmaceutiche poi spesso diventano personaggi di spicco del lema. Se lo facesse nella vostra azienda, se lo facesse nel vostro negozio, cosa succederebbe? Guardiamo bene questa immagine che è stata chiamata la catena del comando e poi vedremo un po' più nei dettagli. Big Pharma, quindi l'associazione delle più grandi multinazionali dei farmaci, controllano tutto e corrompono tutti, come è ampiamente dimostrato. Attraverso i soldi che danno alla pubblicità, attraverso i soldi che danno ai virologi, attraverso i soldi che danno ai tecnici del comitato scientifico, attraverso i soldi che danno all'EMA. La pubblicità, gli esperti, i comitati tecnici e le organizzazioni europee a loro volta orientano i governi e i mainstream media. I governi fanno quello che dicono i comitati scientifici e le situazioni e i media del mainstream dicono quello che dicono i comitati scientifici e i cittadini, pervasi dalla loro piccola pandemia emozionale, abbassano la testa e obbediscono. E se non lo fanno, sono considerati spesso pecore nere, lasciate immagini, ignorati. Ma ci sono alcuni critici, c'è un mondo, anche se non viene comunicato. Peter Goetsch, medico e scienziato danese, ha scritto questo libro, Medicina letale e crimine organizzato, dove definisce le aziende farmaceutiche delle organizzazioni criminali. Non ci resta che leggerlo. Richard Smith è stato il direttore del British Medical Journal. Ha scritto un articolo, anzi ha scritto un libro, come la medicina sta distruggendo se stessa, dove dice che le aziende farmaceutiche hanno corrotto tutti, che il mondo della scienza della medicina è profondamente corrotto. Questa non è la sede per approfondire tutti questi temi, basta guardare, leggere i libri. Patricia Garcia, ex ministro della salute del Perù, è una leader riconosciuta nel campo della salute, un luogo assolutamente credibile. Ha scritto la corruzione è parte integrante del sistema sanitario. Nello stesso libro citato in precedenza di Richard Smith, anche Daniel Callaghan e Sherwin Nuland rincarano la dose sulla corruzione a 360 gradi della medicina e della scienza. Gert van den Bosch è un virologo, professore, universitario, belga, che ha lavorato anche per grandi compagnie come la Novartis, la Solvay e la GSK. Ha scritto un articolo nel marzo del 2021 dal titolo «immediata cancellazione della campagna di massa sul vaccino, mettendo in risalto tutti i rischi, come vedremo, della vaccinazione». Allo stesso modo Loretta Borgan, dottoressa in chimica, tecnologia farmaceutica e scienze farmaceutiche, ha scritto due studi scientifici di oltre 200 pagine critici nei confronti dei vaccini. Leopoldo Salmaso e Francesco Liviero hanno scritto, come vedremo, libri e articoli contro i vaccini. Didier Raoult, che è un medico pluripremiato, che ha un ranking superiore a quello di Anthony Fauci, a sua volta, esprime posizioni molto critiche. Luc Montagnier, come vedremo. Dottor Mastrangelo, Domenico Mastrangelo, che ha lavorato in centri di ricerca di case farmaceutiche per vent'anni. Quindi c'è un dato interessante. Il vaccino solitamente dovrebbe essere sperimentato per almeno una decina d'anni, prima di essere commercializzato. È previsto una procedura di emergenza solo in caso che l'OMS dichiare la pandemia, così come l'ha fatto, e solo in caso che non esistano altre cure valide. Ecco perché questo grande accanimento contro le cure, le altre possibili cure. Vediamola un po'. Vitamina C. Nel febbraio 2020 parte uno studio a Shanghai, in Cina, per il trattamento dei pazienti Covid con vitamina C. Il dottor Andrew Weber, preumologo e specialista di terapia intensiva del Northwell Heart di Long Island, applica un protocollo secondo lo studio cinese. E il risultato è, i pazienti che hanno ricevuto vitamina C sono migliorati significativamente rispetto a quelli che non è stato somministrato. Parte subito una campagna mediatica in tutto il mondo che smaschera la bufala della vitamina C. Nessuna evidenza. Non vale la pena fare ricerca. Vitamina D. Settembre 2020. Lo studio dell'Università di Boston sui 200 pazienti dimostra che la vitamina D riduce il rischio di contrarre il Covid del 54% e il rischio di complicanze ai morti. Il rischio di complicanze ai morti e di contrarre il Covid del 54%. Un altro studio dell'ospital del Mar di Barcellona sui 550 pazienti, pubblicato su Social Science Research Network, dice che la vitamina D3 riduce i morti di Covid del 60% e riduce dell'80% la probabilità di finire in terapia intensiva. Una ricerca dell'Università di Padova del professor Giannini con la somministrazione di vitamina D, i decessi e i ricoveri si sono ridotti dell'80%. Nel 15 dicembre del 2020 esce un articolo. Centinaia di studi mondiali dimostrano come uso di vitamina D migliori i pazienti affetti d'accordo. Ma il Ministro della Salute mette la vitamina D tra le fake news. Non ci sono evidenze scientifiche. L'AIFA di conseguenza impone la ricetta medica per l'applicazione di vitamina D. Però invece il 18 marzo 2020 era stata emessa una circolare del primo reggimento carabinieri paracadutisti in Tuscania dove tra le misure del Covid per i paracadutisti è consigliabile l'assunzione giornaliera di vitamina C e di plasma autoimmune. Nell'aprile del 2020 il dottor De Nonno dell'ospedale di Mantua scopre che la cura con il siero di pazienti guariti da Covid su altri pazienti fa scomparire i sintomi in 2,48 ore. La aplica e non ci sono morti per un mese nell'ospedale. E la riduzione media della terapia intensiva è da 16 giorni a 5 giorni. Su Nature viene pubblicato un articolo che definisce il siero immune come terapia di reazione per il Covid. A Locarno uno studio con il plasma dei convalescenti dimostra ancora una volta l'estrema efficacia. Risultato? De Nonno riceve una visita del NAS, Burioni lo definisce una cura magica, la stampa fake news. Però, visto l'insistenza di diversi medici che hanno sottolineato il valore della terapia, il Ministro della Sanità indice questo progetto tsunami, una sperimentazione a largo raggio col plasma iperimmune. È fatto da 56 centri distribuiti in 12 regioni e viene gestito dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'AIFA. Dopo due mesi, solo una decina di centri sono stati attivati. La nota dice che è emersa una complessità nelle procedure richieste dall'Istituto Superiore di Sanità, ma anche una complessità nelle procedure delle agenzie sanitarie ospedaliere. Nel 15 aprile 2021 l'AIFA blocca la cura con il plasma. Non ha evidenziato benefici. Latoferrina Aprile 2020 all'Università di Tor Vergata della Sapienza. La dottora Serena Campione si accorge che la lattoferrina è in grado di arrestare l'infezione da Covid e produce un'immunità naturale potentissima. Dopo dieci giorni di terapia scompaiono i sintomi. Dopo altri dieci c'è la negativizzazione del tampone. Lo studio, le evidenze sono confermate da una ricerca dell'Università del Michigan. Tutto finisce nel nulla. Nessuna sovvenzione alla ricerca. Nessuna più notizia. Cortisonici. 24 aprile 2020. In una lettera inviata al Ministro Speranza da 30 medici, professionisti di farmacologia, neurologi, neumologi, patologi, biologi, anestesisti, cardiologi, comunicano che i cortisonici contrastano il processo infiammatore nella prima fase della malattia e allegano le ricerche scientifiche. Speranza ignora completamente la lettera. Il 17 giugno a DNCross comunica che l'OMS accoglie con favore i risultati di una prima ricerca svolta in Inghilterra, dove risulta che l'esametazone è efficace nel ridurre la mortalità dei pazienti Covid. Risultato? Nessuna ricerca. Mancano le evidenze scientifiche. Quercetina. Nel 3 settembre 2020 il CNR scopre che la quercetina funge da inibitore specifico per il virus responsabile del Covid. È uno studio pubblicato sull'International Journal of Biological Micro Molecules. 30 settembre, notte del Ministro della Sanità, non esistono ad oggi evidenze solide e incontrovertibili, ovvero derivate da studi clinici controllati, di efficienza di supplementi vitaminici e integratori alimentari come vitamina C, D, Latoferina, quercetina. Ivermicitina. È un antiparassitale che si usa in tutto il mondo da 40 anni. Giugno 2020. Alcuni medici australiani scoprono che inibisce la replicazione del Covid-19 in vitro e lo uccide in 48 ore. Anche uno studio britannico rivela tassi di sopravvivenza superiore all'83%. Marzo 2021. Repubblica cieca ne autorizza temporaneamente l'uso. In poche settimane le morti passano da 200 a 50. Lema raccomanda di non usare ivermicitina. Sono necessari ulteriori studi per trarre conclusioni in metri efficace e sicurezza. Esistono 93 studi che dimostrano l'efficacia col trattamento profilassico contro il Covid-19. La famosissima idrossiclorochina. È un farmaco noto in tutto il mondo da più di 70 anni, attivo contro la malaria, che è messo tra i farmaci salvavita. Il professor Didier Rau, direttore dell'ospedale di Marsiglia, virologo che ha un indice H superiore all'Antonio Fauci e un elenco impressionante di premi, dice L'ICC funziona in tre casi su quattro. Fa uno studio con 24 pazienti. Il 75% di loro non ha più virus all'interno del suo corpo dopo sei giorni. L'ICC più un antibiotico, la zitromicina, porta a guarigione completa in una settimana. Fa poi uno studio retrospettivo su 1.061 casi curati con ICC. Nell'arco di 10 giorni 973 pazienti sono risultati guariti, cioè oltre il 91%. Una ricerca del Michigan conferma La precoce somministrazione di ICC riduce in modo sostanziale l'ospedalizzazione e il rischio di morte. E questo è pubblicato sull'International Journal of Infectious Diseases. Riduce il rischio del 68%. L'ospedale Santorso di Bologna. Medici che applicano cure domiciliari, somministrando ICC in fase precoce, dimostrano che sono scomparsi i pazienti in unità intensive e sono tutti guariti in cinque giorni. Il dottor Mangiagalli e molti colleghi del Nord Italia, dell'azienda sanitaria locale di Milano, applicano un protocollo di ICC più azitromicina e più eparina. La guarigione sui pazienti si verifica in pochi giorni. Meno del 5% viene ricoverato. Nessuno dei trattati è morto. Nessuno dei trattati a casa è morto. Uno studio condotto in 33 ospedali italiani ha dimostrato che l'ICC riduce del 30% il rischio di morte nei pazienti ospedalizzati. Parte una campagna mediatica. Fauci smentisce Trump. Mentre lo stesso Fauci nel 2005 pubblicava uno studio nel quale diceva che l'ICC è un potente inibitore dell'infezione di SARS sul Virology Journal. Esce uno studio, cosiddetto studio recovery, che dimostra che non ci sono benefici dell'ICC. è finanziato da Bill Gates per l'Università di Oxford. Però risulta che l'ICC è stato dato in fase avanzata e non precoce e a dose esagerate che hanno creato allergie. Il Lancet, a sua volta, sostiene aver analizzato 96.000 pazienti nel mondo e conclude che non c'è una minima efficacia, ma anzi aumenta il rischio del 65%. Dopo questo articolo sul Lancet, sia l'FDA che l'EMA rego con l'autorizzazione. Il Ministro della Sanità, di conseguenza, assenza di benefici, anzi potenzialmente letale, sospensione dell'autorizzazione da parte dell'AIFA. Nel frattempo Raul viene minacciato da emissari delle case farmaceutiche a non usare più l'ICC. Esplode a Taiwan il secondo più grande laboratorio di produzione dell'ICC al mondo. Nel frattempo alcuni medici, sorpresi dall'articolo dell'Anset, chiedono all'Anset di pubblicare i risultati. Ma l'Anset è diversa. Poi, pressato, ritira lo studio dichiarando che c'è stato un grossolano errore nei dati. Cioè lo studio era forzato. Però la proibizione rimane. I medici fanno una petizione. Al Ministro della Sanità il Piemonte autorizza burioni inutili e pericolose. I medici fanno appello, visto che non arriva l'autorizzazione. L'11 dicembre il Consiglio di Stato accoglie l'appello e quindi toglie il divieto. Il TAR del Lazio sospende il blocco delle cure domiciliari. Speranza fa ricorso. Questa volta il Consiglio di Stato blocca l'ordinanza del TAR e le cure domiciliari vengono definitivamente vietate. Medici che andavano a casa di pazienti evitando il sovraccarico delle strutture, evitando le terapie intensive, evitando le morti, non possono più farlo. Teniamo presente che una struttura sanitaria per un ricovero in terapia intensiva prende, secondo quanto mi dicono medici che lavorano, 2.000 euro per ricoverato. Ozonoterapia. Febbraio 2020. La Cina attua un protocollo di cura con ozonoterapia su pazienti ricoverati che si riprendono e si negativizzano. La Spagna tratta 9 pazienti che dimostrano un tempo di recupero significativamente più breve del gruppo di controllo. Nell'aprile 2020, all'ospedale di Udine, ozonoterapia in fase precoce, 36 pazienti su 35 vengono dimessi. 25 luglio 2020. Viso superiore di sanità. Sebbene la ozonoterapia possa essere efficace, mancano ancora dimostrazioni di retto ottenute in studi controllati. Perché non si fanno gli studi? 19 novembre 2020, un'interrogazione parlamentare dell'On. Pedrassini Claudio al Ministro Speranza. Non ritiene urgente adottare iniziative per inserire in vista delle evidenze scientifiche l'ossigeno-zonoterapia tra le terapie autorizzate? Risposta. I nuovi dati non consentono di modificare le conclusioni riportate nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Adenosina. È prodotta dall'organismo e riduce le infiammazioni acute e favorisce la riparazione dei tessuti. Giugno 2020. Due medici dell'ospedale metropolitano di Reggio Calabria applicano l'adenosina direttamente nei polmoni tramite aerosol. Risultati delle prime ore. Miglioramento delle condizioni generali. Livello di ossigenazione. Valori normali in 120 ore. Totale riduzione della carica virale. Mortalità crollata. 13 su 14 pazienti gravi sottoposti alla cura si sono totalmente ripresi. L'AIFA blocca la cura sperimentale con adenosina grande all'ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Il parere dell'AIFA è non è favorevole in considerazione di un rapporto rischio-beneficio non definibile. Si ritiene che a fronte dell'attuale disponibilità di alcune opzioni terapeutiche riprovate efficaci a quali, lo studio proposto non possa essere autorizzato. Conclusioni. Quali sarebbero le possibili cure dimostrate scientificamente come valide? Le cure domiciliari precoci. La medicina integrale. L'aumentare le difese. La prevenzione primaria, cioè alimentazione, abitudini di vita, attività sportive e contatto con la natura. Lo sviluppo delle potenzialità, quindi la creatività, le qualità, il servizio e la condivisione. La cura della pandemia emozionale, quindi padronanza dell'esperienza interiore, consapevolezza, liberazione della storia personale, la realizzazione di sé. Tutto questo non esiste perché si deve poter applicare un vaccino in fase sperimentale. L'unica indicazione data dall'Istituto Superiore Sanità, tachipirina e vigila attesa del vaccino. Teniamo conto che la tachipirina, abbassando la temperatura, favorisce la proliferazione del virus. Si stima che il divieto di quei domiciliari precoci abbia procurato almeno 50.000 morti che si potevano evitare. Quale scienza? Chi è negazionista? Chi ha a cuore la salute delle persone? Chi è organizzato, la notte ossia coloro, ma par 39.000 morti che si potevano, ha! Chi è unità, chi è durata, flu01. Grazie a tutti.